Volti che ricalcano opere d'arte dell'antichità. Teste, sguardi, bocche che rappresentano l'intera umanità, racchiusa tra due pesanti lastre inonice. Persone di ogni tempo e di ogni luogo, chiamate ad essere una cosa sola con Gesù Cristo, il cui corpo viene offerto proprio sull'altare. La Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate viene restituita ai fedeli in tutto il suo splendore, dopo un lungo lavoro di restauro. Domenica la messa celebrata dall'arcivesco di Milano Mario Delpini, con la benedizione del nuovo altare realizzato dall'artista Claudio Parmigiani, insieme a Lambone, che volutamente scavalca gli scalini per avvicinarsi alla folla dei fedeli, per rendere ancora più immediati il contatto, la comunicazione. Claudio sceglie di riunire nell'altare l'umanità, ma non un'umanità presente, quindi i suoi volti non sono ritratti di persone realmente in questo momento esistenti, ma un'umanità simbolica. E quindi nell'altare ha riunito cento volti di sculture antiche che hanno segnato la nostra storia. Questo filtro della storia, che è anche filtro della storia dell'arte, si riunisce nell'altare con l'idea di proprio rappresentare il tempo, la nostra storia, la nostra drammaticità, ma anche il nostro anelito a ricongiungerci al corpo di Cristo. La scelta dell'Onice anche non è una scelta di materiale casuale, è stata molto calibrata e molto discussa, è una scelta dovuta alla purezza di una materia che diventa luce, che diventa trasparenza e che è anelito nei confronti proprio della purezza di Cristo. C'è l'ambone dove si proclama la parola di Dio, che è molto, molto, molto in avanti e che dice quasi la voglia di comunicare, Dio che vuole farsi avvicinare, che vuole entrare nella nostra vita e far presente la sua tenerezza per questa umanità. L'abbiamo fatto riscoprendo sempre di più un'eredità che abbiamo ricevuto, una grande eredità. Riscoprire questi colori, queste figure, queste proporzioni della Basilica, ecco, veramente ci ha riempito di grande gioia, ma soprattutto anche di riconoscenza. L'altare ha immediatamente colpito i cittadini, che sui social hanno dato il via alle polemiche. In molti hanno definito l'opera come poco adatta al contesto e poco pertinente. È necessario capirne il significato, conoscere il lavoro che ha portato alla sua realizzazione, spiega l'assessore alla cultura Isabella Peroni. Per questo verranno messi a disposizione degli esperti, pronti a spiegare nei dettagli l'arte di Parmigiani e verranno presto collocati dei pannelli esplicativi dedicati all'interno della Basilica. L'invito è a venire a vedere questo altare da vicino, non imitarsi a delle fotografie, perché la forte simbologia e i messaggi che emana necessitano necessariamente di un contatto diretto. Deve essere toccata la pietra, devono essere visti questi volti e questi visi perché esprimono tutto il loro messaggio vero. A rendere omaggio a Parmigiani, anche il Museo Maga, che presenta i documentari sulle opere storiche dell'artista è la mostra di Armin Linke, dal titolo Moltiplicazioni, volta a documentare il progetto di restauro della Basilica, raccontando per immagini l'eccezionalità e la complessità del progetto. Gli scatti proposti parlano di fatti, luoghi, persone con l'obiettivo di trasmettere il senso di una comunità pastorale coesa che affida all'arte la trasmissione dei suoi valori. Le fotografie si susseguono in modo non lineare, secondo una traccia narrativa aperta, ricca di suggestioni, di echi, di rimandi, che conducono verso l'ultima grande immagine dedicata alla nuova area presbiterale della Basilica.